Buongiorno da BTV News. Oggi, 13 gennaio, è Sant'Ilario di Poitiers. Oggi ricorre la giornata mondiale del dialogo tra regioni e omosessualità, costituita nel 1999 in ricordo di Alfredo Armando, intellettuale e poeta siciliano che si tolse la vita dandosi fuoco in piazza San Pietro, in segno di protesta contro l'omofobia delle gerarchie vaticane. Oggi è anche la giornata nazionale dei baci di Dama e la giornata internazionale della pesca Melba. E ancora il 13 gennaio 2012 naufragò la nave Concordia. Tra i nati di oggi ricordiamo Marco Pantani, nato nel 1970, e Stefania Belmondo, nata nel 1969. Tra le persone scomparse in questo giorno abbiamo James Joyce, 1941, tra i massimi scrittori del Novecento con la sua rivoluzione stilistica, aprì la strada al modernismo letterario. L'irlandese di Dublino rimase sempre legato alla sua terra pur viaggiando molto.